eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a passare a visitare anche il mio canale di twitch per live in tempo reale patch aggiornamenti tg informativi e tanti gameplay su black ops 4 partiamo con le notizie oggi sono veramente tante lunedì 3 dicembre ci sarà un evento molto particolare per call of duty black ops 4 infatti vedremo per la prima volta alcuni personaggi famosi giocare appunto a questo titolo in che senso vedremo ad esempio neymar tiago silva e marchinos giocare appunto a call of duty black ops 4 potrete seguire la live di questo evento molto ma molto particolare dove dei giocatori famosi giocheranno a black ops 4 sul mio canale di twitch amante trattino basso yt infatti osserò proprio l'evento direttamente da call of duty seconda notizia molto a molto interessante arriva dal call of duty esport che annuncia il primo evento appunto competitivo dell'anno quello che vedremo a las vegas dal 7 al 9 di dicembre che si svolgerà all'hard rocks hotel anche questo evento ragazzi lo potrete seguire in live sul mio canale di twitch quindi ragazzi rimanete sintonizzati vi darò tutte le informazioni a riguardo altra notizia arriva invece dal profilo twitter di treyark studios che pubblica un post di lavoro entra a far parte dello studio della treyark nel 2019 quindi la treyark sta cercando nuovi collaboratori da inserire appunto nel suo team engineering quindi ingegneri designer vfx e concept art ragazzi quindi sta cercando di ampliare il proprio team per lavori del 2019 quindi sicuramente sta cercando nuove persone per migliorare il gioco per cercare di rendere ancora più competitivo e performante call of duty black ops 4 chiudiamo il video informativo del giorno con una notizia molto interessante un utente su reddit.com del nome del happy store ha pubblicato tutte le mimetiche che allo stato attuale possiamo trovare e sbloccare all'interno della modalità zombie se ve le faccio vedere in una carrellata veramente molto veloce sono molto ma molto belle sicuramente le più interessanti sono le ultime la red axe red axe e la silver fish sono veramente molto ma molto interessanti vi ricordo che la treyark ha annunciato che la mimetica oro la mimetica diamante la mimetica dark matter arriveranno anche in zombies in un futuro aggiornamento di cui vi riporterò tutti i dettagli in tempo reale qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie